Domenica con la Lazio un risultato poco brillante contro una delle squadre che però si è dimostrata una delle più in forma fino ad adesso. Più marito della Lazio, più colpa del Chievo? Tutte e due, purtroppo siamo andati subito in svantaggio e poi per loro la partita è stata più facile da gestire, anche se noi abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, però purtroppo non siamo stati bravi nello sfruttarlo. Come ho detto bene tu, Lazio poi in questo momento è una squadra molto in forma, è una delle migliori squadre del campione italiano e appena hanno potuto ci hanno subito castigato e poi dopo per noi la partita si è chiusa. Però l'importante è che la squadra ha reagito, la squadra ha dimostrato che crede in quello che fa, abbiamo creato parecchie palle e gol, speriamo che già da sabato giri la ruota e magari con un pizzico di fortuna in più di riuscire a portare a casa dei punti. In sette giorni tre squadre, Juventus, Inter, Palermo, quali sono i punti di forza di queste tre squadre? Sono tanti, dobbiamo pensare una partita alla volta, ora incontreremo la Juventus, sono i campioni d'Italia, sappiamo benissimo che squadra è, una squadra piena di campioni, una squadra che mi pare più di 40 partite, 43 partite che non perde e quindi è una squadra sicuramente solida e noi dovremmo stare attentissimi e augurarci di fare la partita perfetta. Poi affronteremo l'Inter che è una squadra al pari della Juventus con tantissimi campioni o magari con qualche problemino di gestione in più e poi dopo andremo a Palermo in una squadra che ha cambiato da poco l'allenatore e che quindi è un po' un punto interrogativo. Partite con la Juve, da te particolarmente sentita, l'anno scorso hai visto un Chievo quasi perfetto. Cosa possono aspettarsi i tifosi? Una cosa simile oppure c'è ancora qualcosa da aggiustare in questa squadra? Noi tutti i giorni e tutte le settimane lavoriamo per cercare di arrivare alla partita nel miglior modo possibile e soprattutto per cercare di portare sempre a casa i tre punti. Sappiamo benissimo che sarà molto ma molto difficile per noi, però lo era anche l'anno scorso quando andammo a giocare a Torino tutti quanti ci dicevano che dovevamo stare attenti per tutto dello stadio che era soprannominato lo stadio della paura, noi abbiamo dimostrato con grande personalità che non abbiamo timore di nulla, abbiamo fatto la nostra partita, alla fine abbiamo rischiato anche di vincerla e quindi abbiamo una base solida sulla quale partire e io mi auguro che sabato sera il Chievo riesca a portare a casa più punti possibili. Grazie.